Musica Grande evento per la conclusione del Green Road Movie Film Festival nato per conoscere, scoprire e riscoprire Taranto e il Tarantino, le sue potenzialità green e le sue risorse, partendo dal suo territorio con uno strumento prezioso come il cinema. Per Green Road luglio di quest'anno sarà un mese importante perché da oggi inizia tutta la nostra azione promozionale della Green Road. Iniziamo con questo importante festival di elevatura internazionale con ospiti importanti, Enzo De Caro, Tognazzi, anche un'attrice canadese, Liu, davvero ospiti internazionali che daranno un grande risalto e danno lustro al nostro territorio. Poi la data del 24, per noi questo sarà un momento davvero decisivo, abbiamo la presentazione del manuale e del kit, due opere fondamentali per il nostro lavoro e nel manuale le collaborazioni sono davvero infinite. Abbiamo avuto non solo tutte le associazioni di categoria compatte e unite nel supportarci, penso a Confindustria, penso a Confartigianato, penso a Confagricoltura, davvero tante associazioni casartigiani, tante associazioni vicine che hanno testimoniato la loro attenzione al nostro lavoro. Ma poi soprattutto delle istituzioni davvero internazionali e a questo punto penso alla Fondazione Enrico Mattei, penso al Consorzio Aster di Aldo Bonomi, penso al Campus Biomedico di Roma e, dulcis in fundo, il World Economic Forum. Davvero non potevamo ottenere di meglio. E alla fine il kit, altro strumento importantissimo che vede le nostre aziende, l'eccellenza del territorio, unite in un prodotto di natura commerciale. E quindi per la prima volta il territorio del Gal Colline Ionico e non solo, si presenta unito in uno strumento di tipo promozionale e commerciale che a partire dal 24 luglio porteremo nel mondo. È già in programma una missione a New York, ma ne arriveranno davvero tante altre perché noi abbiamo bisogno che i nostri prodotti viaggino nel mondo e che il mondo venga qui a trovarci. Il percorso formativo si è chiuso domenica scorsa con l'evento conclusivo nella masteria qui su Tutudeus di Crispiano. Qui si sono incontrati i personaggi del cinema, quali l'attore Gianmarco Tognazzi, le attrici Monica Valerini e Lugì, il direttore della fotografia Blasco Giurato di Nuovo Cinema Paradiso, l'attore di cinema e teatro Nicola Dipinto e lo sceneggiatore Alessandro Ponti, insieme hanno discusso di cinema e di nuove progettualità. Di Green Road sono convinti i sostenitori, attori del calibro di Enzo De Caro e Gianmarco Tognazzi. Sono tornata in Puglia e quindi sono un pochino tornata, si è tornata un po' in Puglia, diciamo, ma mi piace in Puglia e poi vabbè in Puglia. Green Road, il concetto di Green Road, di strada verde, è una cosa di cui credo che proprio la Puglia possa essere orgogliosa che parta da qui, perché è un concetto di cooperazione, di lavoro, di collaborazione, di opportunità, di sviluppo, di alternativa, in questo momento dove c'è la sensazione di non avere alternative, che è una specie di format dell'anima, esportabile. Ed è bello che nasca qui in Puglia, che io ho sempre considerato una specie della nostra California. Io la considero la California d'Italia, perché ha spazio, terra, natura, pazienza e talento. Manca forse in questo momento ancora una parte imprenditoriale aperta a capire che il concetto di cultura non è una rottura o di perdere tempo con le cose, è impresa. Oggi si può mettere insieme delle cose che sembrano lontane, il mondo della cultura, anche quello dell'informazione, del divertimento, perché no, con quello imprenditoriale. La Green Road, che è questa idea di collegare idealmente queste cento masserie attraverso questa strada verde, è proprio un progetto di sostenibilità spirituale, ambientale e di persone. E io credo che quando si attua il concetto di Green Road tra 5 persone, 3 persone, 8 persone, 2 imprese, ecco che soprattutto in questo momento, che è il lato positivo di questo momento difficile che stiamo tutti vivendo, ma è molto interessante, è molto interessante perché costringe a fare i conti con l'altro, a mettere insieme forze che magari normalmente ognuno farebbe per sé. E in questo momento bisogna prendere atto che non ce la si fa da soli, quindi bisogna trovare, come nelle migliori occasioni, chi è sulla sintonia per fare una piccola unità operativa, che può essere fatta da persone diverse, uomini di cultura, contadini dell'anima, imprese, che mettano insieme ed è molto bello che questa cosa parta proprio dalla Puglia, a cui io sono molto legato come terra, come persone, come ringraziamento delle nostre origini magne e greci, perché se no staremo ancora sopra gli alberi. E quindi oggi questo credito, debito, si può in qualche modo ripagare mettendosi a lavorare con serenità, ma anche con l'obiettivo di portare questo sistema di pensiero della Green Road sostenibile e la salute non solo dei pugliesi o dei tarantini, ma la salute di tutti che è in pericolo in questo momento nel pianeta va in qualche modo resettata, va resettato un modo di vivere. Qui possiamo, nessuno vuol tornare indietro alle scomodità, però credo che si possa trovare un punto di incontro tra le comodità, la bellezza e il rispetto dell'ambiente. Se in tutto questo si riesce a mettere anche un po' di affermazione, di conoscenze, di diffusione della nostra cultura, credo che possiamo vivere tutti un po' meglio. E la Green Road, la strada verde, la via di trovare risorse che possano dare possibilità a talenti, non soltanto pugliesi, ma intanto del nostro mezzogiorno, del nostro paese, qui di potersi esprimere, trovare le risorse per poter manifestare le proprie capacità, è proprio la conclusione ideale, perché si parte dalla civiltà contadina, dalla cultura antica dei nostri nonni, dei nonni, dei nonni magna greci, e che ritrovano oggi, possono ritrovarsi a ridare vita alla bellezza. Questo era il posto della bellezza, deve ritornare il posto della bellezza. Per tenere alta oggi la bellezza, c'è bisogno di un piccolo reset tra i vari aspetti che permettono di fare cultura, di fare comunicazione, di fare cinema. E questa è poi una terra talmente unica come risorse di verde, di strutture naturali, di tracce di antichità. A me piacerebbe pensare che l'idea della Green Road possa essere un punto di incontro tra l'antico e il moderno, tra l'antichissimo e il modernissimo, tra la tecnologia che ancora non sappiamo che arriverà è quel pensiero dei nostri padri. Ecco, se la Green Road, anche per il cinema e la comunicazione, può essere questa via, beh, sarà carino camminarci tutti un po' con i piedi dentro. Credo che l'iniziativa sia una delle iniziative più belle di tutto il Sud. La riunione delle masserie rappresenta un evento culturale di notevole importanza, ma anche di rilevanza mondiale, perché noi conosciamo il valore delle masserie, i frantoi, le masserie hanno una storia grandissima nella storia della Puglia. Per cui, diciamo, io mi sento parte del... Sento io napoletano, in qualche modo la Puglia mi appartiene, così come... In realtà, così, con la collaborazione con musicisti pugliesi. Voglio ricordare il mio amico Eugenio Bennate, che attualmente sta andando in giro portando le pizziche, diciamo, della Puglia. Questa sera, credo che, questa sera e spero che questa sera sia una delle innumerevoli iniziative che seguiranno. Per cui siamo tutti emozionati a questa prima apertura di questo grande progetto. Anch'io mi sento un po' un contadino dell'anima, ma non solo dell'anima, proprio a livello attivo. La mia attività si è spostata dal cinema alla terra, un po' per fare un omaggio a mio padre, che ha avuto questo amore spassionato e nel quale si è buttato a capofitto, ci ha fatto vivere in mezzo al verde, a contatto con la natura, e quindi tutto quello che è un percorso di scoperta del territorio, di questi luoghi meravigliosi che abbiamo in tutta Italia, la Puglia in assoluto è una delle regioni più belle. Quindi credo che la Grey Road sia assolutamente un'iniziativa da sostenere, da sposare, perché ha tutte quelle prerogative a cui bisogna tornare. Mio padre diceva che bisogna tornare, c'era una volta una mamma, una campagna, un orto, ricreiamoli, dipende da noi. Credo che, questo lo diceva nel 72, quindi parlava in qualche modo, già anticipava il biologico, anticipava il tornare alle cose semplici, alla convivialità, al condividere con le persone, e mi sembra che siano tante caratteristiche in comune con la Grey Road. Organizzato anche con il sostegno del GAL, Colline Ioniche, che attraverso la Green Road persegue obiettivi di sviluppo sostenibile per il territorio del Tarantino, il Green Road Movie Film Festival è stato realizzato tra Taranto, Pulsano e le masserie di Crispiano dall'associazione Suognando e Melos International, con il sostegno di Regione Puglia, assessorato alle politiche agricole con la direzione artistica di Martino De Cesare. Tutti i riscontri sono assolutamente positivi, sia sul piano locale che anche sul piano esterno. Infatti le iniziative che si stanno facendo anche sul piano internazionale stanno facendo riscoprire attraverso la Green Road il nostro territorio. E così a livello locale, tanto per fare l'esempio, a livello provinciale Confindustria Taranto, che si inventa una smart area con sei punti, a cui viene aggiunto un ulteriore punto, un ulteriore asse, che è quello della Green Road. Quindi è la dimostrazione che il territorio e l'ambiente particolare, invece di essere un problema come lo è stato per la vicenda ILVA, deve diventare assolutamente una risorsa. E quindi la risorsa avviene attraverso la valorizzazione dei tesori che abbiamo sul nostro territorio. A cominciare dalle masserie, ma i nostri prodotti enogastronomici, ma anche la ceramica tipica dell'artigianato di Grottaglie, sicuramente si inseriscono in questo progetto più generale, che è appunto la Green Road, questo progetto che piace sempre di più all'interno del territorio, ma soprattutto all'esterno del territorio, che attira investitori, attira turisti, e quindi è assolutamente positiva, c'è un riscontro positivo. Cominciamo oggi, mettiamo un tassello, per far sì che la Green Road, il Green Road Movie Festival diventi un appuntamento fisso e sempre più importante del cinema legato al territorio. Mi piace sottolineare il fatto, e poi da artista, da musicista, fondamentalmente ho il piacere di organizzare queste cose per il territorio, e il piacere di vedere amici di Roma, di Napoli, di varie parti d'Italia, che portandoli qui a casa mia si innamorano del mio territorio è un orgoglio, per cui questo mi spinge con tanta fatica a organizzare anche questi eventi, però mi ripaga il fatto di vedere come veramente ci tengano anche loro, si innamorano del territorio e ci danno una mano a promuoverlo. Quindi il Green Road Movie Festival, pensiamo, ma non solo io, anche gli ospiti che ho invitato stasera, Talgnazzi, De Caro, Tony Esposito, produttori televisivi, di cinema, che possa davvero diventare un festival ubicato in queste splendide strutture, che sono le masserie ioniche, e che possa diventare un punto fermo, qualcosa che possa, come dire, emergere all'attenzione nazionale, mi spingerei anche oltre, internazionale. Già quest'anno abbiamo Lu Ye, che è un'attrice cino-canadese, che ci è venuta a trovare lì in Italia per promozione, e come ha visto questa struttura si è innamorata, per cui il termometro è proprio quello. Io penso ogni bene della Green Road, che è questo circuito che unisce non solo le bellezze, ma unisce la cultura di questa terra, ed è un qualcosa di autentico. L'importante è quando si cresce, quando si cerca di rinascere, è di non perdere l'autenticità. Sono stato recentemente in alcuni posti all'estero, dove un management del turismo piuttosto aggressivo hanno snaturato completamente l'ambiente. Noi abbiamo un ambiente qui in Puglia, e soprattutto a Taranto, messo a dura prova. Lo dobbiamo conservare. La Green Road è una maniera gentile, culturale, storicamente valida, di riconnetterci con la nostra identità. La Green Road è l'ambiente La serata si è conclusa con la proiezione di un cortometraggio e con il concerto di Martino De Cesare e Tony Esposito, infine degustazioni dell'ottima cucina del territorio. La serata si è conclusa con la proiezione di un cortometraggio. La serata si è conclusa con la proiezione di un cortometraggio. La serata si è conclusa con la proiezione di un cortometraggio.